Ciao Vanessa, come stai? Ciao, benissimo, sto per iniziare il turno. Ci racconti tre novità del tuo ristorante? Certo, seguitemi! La prima novità è lo Smash Burger, un hamburger cotto alla piastra e smashato al momento per creare un hamburger sottilissimo con una croccante crosticina. Viene accompagnato dalle patatine e dalla nostra mitica salsa Old Wild West. La seconda novità è la lasagna, un piatto che non ti aspetteresti mai da Old Wild West. Per un pranzo più tradizionale ma gustoso. La terza novità è il nostro panino da cota, che è uno dei più richiesti dai nostri clienti. È un panino con carne, bacon e formaggio ed è accompagnato dalle nostre patatine French Fries e dalla salsa Old Wild West. E per tutti i clienti che scaricano l'app Io e Legru, c'è il 10% di sconto valido su tutto il menù dal 29 settembre fino al 31 ottobre. Grazie Vanessa! Grazie a voi, vi aspettiamo! Grazie a voi!